Tutti abbiamo un lato chiaro e un lato scuro e tu vuoi a tutti i costi farci vedere sempre il tuo lato bello e la tua bontà, la tua gentilezza d'animo, però io sarei tanto curiosa in questo rush finale di vedere il tuo lato scuro Guarda, con questa ultima scelta anche che ho fatto, questo lato così buono, io non me lo sono nemmeno tanto vista quindi mi sono mostrata con tutti i miei pregi, difetti, con i valori che comunque credo mi contraddistinguono Vabbè, ma più il lato scuro, comunque il lato scuro l'hai dimostrato all'inizio, più oscuro Eh, perché è più di così, che ce l'ho fatto, però sempre facendosi passare per la vittima, io sono sicura che lei è anche carneta Grazie